Mr. Pasquale Novanonico, qual è il suo commento su questa vittoria? È chiaro che sono contento, sono felice perché la società mi ha dato una grande responsabilità, un grande incarico ed era giusto rispondere presente. La squadra mi ha dato una dimostrazione sopra le righe, una vittoria che dedico alla società e soprattutto a Mr. Figliomeni, che per me è assolutamente un maestro. Sappiamo tutti quello che è successo, quindi mi sono fatto trovare pronto, abbiamo fatto una settimana particolare, però alla fine credo che sulla vittoria ci sia poco da dire, perché abbiamo fatto i primi 20 minuti veramente a 2000 all'ora, abbiamo fatto il gol, abbiamo sferrato il raddoppio, poi abbiamo fatto gestione, abbiamo fatto gol su una punizione che abbiamo provato forse 50 volte venerdì e questo mi rende felice, ha fatto gol un giocatore che ho punzecchiato più volte durante la settimana, ha fatto una doppietta. E appunto questo vuol dire che è un nuovo acquisto che è già fatto, è una doppietta e l'ho partita bene. Ha portato bene, abbiamo modificato veramente poco o nulla, però abbiamo lavorato sulla posizione dei due attaccanti, credo che proprio da quello sia nata la prima marcatura, poi siamo stati in controllo, tenga presente che abbiamo giocato con 4 under, e poi alla fine è entrato pure Giorgio in 2002, ci mancavano Romero, Carbone, Bruzzaniti, Mammoliti, Dascoli, non gente di poco conto, quindi parliamo di 5 titolarissimi. Alla squadra devo dire solamente grazie e torno a casa veramente contento e soddisfatto, perché abbiamo vinto, era la cosa più importante, sia per noi, sia per il gruppo, sia per la società, che per i ragazzi, che per il nostro pubblico.